L Servizi, i diritti che non sai. Il Presidente del Senato nomini i componenti della Commissione d'inchiesta sulle morti bianche per mantenere alta l'attenzione del Parlamento e contribuire a combattere il fenomeno. Di questo vogliamo parlare oggi nelle servizi. Infatti è stata da poco ricostituita la Commissione d'inchiesta sulle cosiddette morti bianche che più volte l'ANMIL ha fortemente chiesto in questi nove mesi dall'insediamento del nuovo governo affinché venga proseguita l'attività egregiamente svolta. dalla precedente Commissione lungamente presiduta dal Senatore Tofani e non rimangano un lavoro da biblioteca le dettagliate relazioni che tutti abbiamo potuto apprezzare. Questo è il commento del Presidente nazionale di ANMIL Franco Bettoni all'indomani della pubblicazione in gazzetta la delibera della Commissione lavoro permanente al Senato sull'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. I numeri relativi all'andamento infortunistico prosegue Bettoni purtroppo continuano a confermare la necessità di trattare questo fenomeno come un'emergenza sociale. Nel 2012 gli incidenti sono stati quasi 750.000 con 790 casi mortali. Troppi per un Paese che ha nel lavoro il suo fondamento costituzionale che dovrebbe avere il compito di assicurare ai propri cittadini il diritto alla vita, alla salute, alla dignità sociale e lavorativa. A questo punto, conclude Bettoni, chiediamo al Presidente del Senato di dare seguito in tempi brevi alla nomina dei 20 senatori che faranno parte della Commissione e del Presidente che andrà scelto al di fuori dei predetti componenti certi della sua sensibilità verso un tema così importante per l'economia ed il Paese. E allora, noi abbiamo sentito ieri ai nostri microfoni Franco Bettoni, Presidente nazionale di ANMIL, su questo tema. Ascoltiamo cosa ci ha detto. Noi come associazione da nove mesi chiediamo che venga ricostituita la Commissione definita sul tempo di inchiesta sulle morti bianche. Oggi è stata istituita la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro delle malattie professionali. Perché riteniamo che questa commissione sia importante innanzitutto perché va a indagare, va a capire, va sul territorio, ha i poteri, si fa aiutare. Vuole un ruolo prezioso nell'esame delle varie casistiche, delle individuazioni di strategie di intervento. E ovviamente facendo ciò può aiutare poi il Senato, i senatori e gli onorevoli a fare delle normative, delle applicazioni, dei decreti, dei attuativi e leggi a favore della sicurezza nei luoghi di lavoro e ovviamente anche della tutela della salute dei lavoratori. Quello che prevede anche la nostra Costituzione. Per quello che è importante, anche partendo dal dato che nel 2012 sono stati 750 mila gli incidenti sul lavoro, 790 casi mortali senza andare a contare quelli che sono morti a causa delle malattie professionali che in questi anni sono sempre centinaia e centinaia di persone. Ed è per questo che noi siamo contenti che l'ex Ministro del Lavoro, che preside la Commissione, i parlamentari della Commissione, mi cito qualcuno, i Casson, Titi, Amati, Fedeli, Favro, sono tanti, non voglio leggerli tutti, Orru, Minniti, hanno voluto porre l'attenzione a questo tema. Adesso aspetta al Presidente del Senato dare i nomi, nominare e cominciare a lavorare partendo anche dall'ultimo caso purtroppo di Prato, che già non se ne parla più. Ecco, vorrei sottolineare una cosa che ha detto, si fa aiutare, quindi questa Commissione non lavorerà da sola ma prevederà anche l'aiuto esterno? Certo, perché la Commissione, anche noi come associazione, ha udito tantissime, ha udito l'AMMI, l'ha udita, ma ha udito tante persone, i consulenti del lavoro, i tecnici dell'ASL, può farsi avvalere di collaboratori all'esterno che sulla tematica possono portare consigli, professionisti, esperti, ha detto il lavoro, il sindacato, può audire queste persone sulle tematiche che riguardano la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo è molto importante per chi come noi vuole promuovere la cultura della sicurezza, della legalità e del lavoro che ci deve essere, ma deve essere sicuro. Purtroppo in questi momenti di crisi non dobbiamo lasciarci perdere che la vicenda di Prato, ce ne sono tante in giro e non ci deve preoccupare. Noi dobbiamo lavorare nella legalità e la Commissione di Chiesa pensa che ha lavorato bene nei dieci anni preseduta dal senatore Topani e ritengo che qualsiasi persona che ha queste sensibilità comincia a lavorare su questo tema, fa solo un vantaggio alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Prima diceva adesso tocca al Presidente del Senato, ci sono tempi prestabiliti? Io non penso, sicuramente noi chiediamo che non vada alle lunghe, c'è un dettato della Commissione di Lavoro che ha deliberato ciò, la competenza della nomina aspetta al Presidente del Senato, non lo conosco ma so che una persona a cui dimostra le cose le vuole risolvere subito, io spero che il Presidente del Senato Grasso nomini la Commissione con il suo Presidente e si cominci già a lavorare perché purtroppo tre morti al giorno sul lavoro e gli incidenti sul lavoro anche in un momento di crisi economica che noi conosciamo, succedono. Quelli non regolari, quelli insicuri, quelli purtroppo è successo a Prato ma chissà quanti incidenti minori ma sempre in nero succedono e noi non sappiamo. Dobbiamo cominciare a parlare dell'insicurezza del lavoro, di porla al centro in un momento che qualcuno dice pare che inizi lo sviluppo, non vorrei che inizi lo sviluppo economico sul lavoro, non si vede ma qualcuno dice che c'è, con gli incidenti sul lavoro che iniziano di nuovo ad aumentare se inizia la produzione, se iniziano le ore lavorate in più. Noi vogliamo questa attenzione da parte del Presidente del Senato. Prima ne accennava alcuni, siamo alla fine dell'anno, allora possiamo ricordare, può aiutarci a ricordare ai nostri ascoltatori, quali sono i dati degli incidenti e dei morti sul lavoro ad oggi? Io do i dati linei ufficiali, nel senso quelli del 2012 sono stati quasi 750 mila incidenti in Italia con 790 casi mortali, questi sono i dati del 2012 compragati e però ovviamente qui non esistono le persone che a causa delle malattie professionali nel tempo amianto, silicosi, asbestosi che magari malate da tempo sono morte nel 2012 e sono morte anche nel 2013, si parla di centinaia di persone che a causa delle contazioni di malattie professionali sono morte. Ecco, questo è un dato che ci deve far riflettere, ci deve far riflettere tutti e bisogna ragionarci, bisogna continuare a fare una lotta all'insicurezza sul lavoro. Bettoni ha citato più volte Prato nella nostra intervista, allora le chiedo anche un commento su quello che è successo. Prato l'ho nominata perché è successo, io conosco il territorio di Prato, sappiamo tutti che è un territorio dove la comunità cinese svolge lavori, come qualcuno ha definito nell'irregolarità, ci sono due economie Prato, quella che applica le norme di sicurezza e quelli che non la applicano, quello che è successo, ognuno fa il commento da sé, però sette delle persone sono morte sul lavoro e si sono fatte male, che siano italiani, cinesi, francesi e comunitari sono persone che hanno perso la vita, i propri cari, hanno perso i propri genitori, i propri figli. Noi su questo non possiamo far finta di niente. In questi giorni i riflettori non ne sento più parlare, a parte da chi vive tutti i giorni questi problemi, e mi sembra giusto che dobbiamo ricordarlo, ma ricordarlo, non so se si è dimenticato, la Thyssen Group se ne è parlato per molto tempo, un'azienda grossa, molto importante, qui si vuole dimenticare, noi non dobbiamo dimenticare perché chi muore sul lavoro non è bianco, rosso, verde, non è di un'etnia, sono uguali tutti, sono persone con le proprie famiglie, e sono drammi familiari che viviamo personalmente, quando si vivono è difficile portare avanti, se non si è avvicinato qualcuno e soprattutto se si viene dimenticato. E allora, proprio perché è importante tenere alta l'attenzione su questi fatti, le chiedo per chiudere la nostra intervista, sta per iniziare il 2014, voi siete un'associazione sempre molto attiva, piena di eventi in calendario, proprio per tenere alta l'attenzione, le chiedo che cosa vi aspettate da questo 2014, se avete già delle iniziative da segnalarci. Beh, noi sicuramente il 2014 sarà l'insegna, la prima iniziativa sarà di tornare a parlare del lavoro al femminile, delle donne infortunate, madri, mogli, figli, che hanno figli, che vivono, e sarà l'ottomazzo, ma sicuramente inizieremo a parlare della riforma, della legge contro gli importanti, che è vecchia del 65, l'attuazione dei decreti attuativi, del decreto 81 che noi stiamo chiedendo da tempo, che sono tanti, che non sono stati ancora fatti, ci sono tante cose che dobbiamo, che continuiamo a chiedere, chiederemo anche quest'anno, inizieremo con delle nostre campagne sul territorio, noi su tutto il territorio nazionale facciamo sempre eventi di inaugurazioni di strade, monumenti, per ricordare che gli incidenti sul lavoro ci sono sempre, ricordare chi è morto sul lavoro, se si è fatto male, e porre delle strade in posti dove passano i giovani, dove vanno a scuola i giovani, lasciando dei segnali del ricordo dei caduti sul lavoro, delle vittime sul lavoro, aiuta a parlare di quel tema, e noi continueremo ad andare nelle scuole, con le iniziative che stiamo già facendo, ci stiamo ancora andando, fino al 20 dicembre andremo, e a gennaio in tutta Italia, ricontineremo ad andare a parlare ai futuri lavoratori, ai futuri imprenditori, del tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Grazie a Franco Bettoni, presidente nazionale di Anmil, adesso prima di chiudere alcune notizie da www.inca.it, partiamo dal Brasile, l'Inca protagonista nella prima conferenza sull'immigrazione in Brasile. I diritti degli immigrati a San Paolo del Brasile hanno trovato cittadinanza nella prima conferenza sul tema, che si è svolta a fine novembre, organizzata dal municipio di San Paolo, con l'ausilio del coordinamento delle politiche migratorie e la segreteria per i diritti umani e di cittadinanza, sotto il significativo titolo Siamo tutti immigrati. Le modalità organizzative della conferenza hanno visto la partecipazione lungo tutto il percorso di tutte le associazioni che svolgono la propria attività a difesa dei diritti sociali e di cittadinanza degli immigrati, nonché delle diverse responsabilità di lavoro della Municipalità di San Paolo, tra cui la segreteria delle politiche per le donne. Il patronato Inca CGL di San Paolo è stato tra i protagonisti, sia nella fase preparatoria della conferenza, che nelle conclusioni dei lavori della stessa per i contenuti innovativi in termini di nuovi diritti per gli immigrati in Brasile, assunti nel documento conclusivo. Il seminario organizzato dal patronato Inca CGL, la CUT, la CSA e CDHIC nell'ambito del progetto di cooperazione sui flussi migratori a San Paolo, con il concorso delle diverse associazioni di San Paolo, ha rappresentato un contributo rilevante in termini di elaborazioni e proposte per l'affermazione dei diritti degli immigrati, che hanno trovato un puntuale riscontro nei lavori della conferenza e nei documenti conclusivi, i cui assi fondamentali disegnano una diversa legislazione sui flussi migratori, con un radicale cambiamento nella sfera dei diritti sociali del lavoro e di cittadinanza. I gruppi di lavoro tematici della conferenza hanno approfondito i diversi segmenti della sfera dei diritti negati e, al tempo stesso, hanno declinato proposte concrete alternative sul terreno dei valori e della cultura, dei diritti sociali e della partecipazione alla vita democratica e rappresentativa delle comunità di San Paolo. I documenti conclusivi contengono anche alcune proposte di politica sociale in termini di assistenza e reddito già da tempo avanzate dal patronato Inca relative alla estensione a tutti gli immigrati dei benefici previsti dall'OAS, Legge Organica di Assistenza Sociale, comprese le persone anziane prive di reddito. Si tratta di una novità importante se si considera che, nell'attuale legislazione, i nostri connazionali emigrati in Brasile, che hanno conservato la cittadinanza italiana e non hanno altri redditi, finora ne sono esclusi. Solo in alcuni casi, grazie all'intervento dell'Inca in sede giudiziaria, è stato possibile ottenere la esigibilità del diritto all'OAS. Le conclusioni della conferenza municipale saranno portate alla conferenza nazionale che si svolgerà a marzo del prossimo anno. C'è da sottolineare, intanto, l'importante provvedimento adottato dal prefetto di San Paolo e pubblicato sul diario ufficiale con cui gli immigrati possono partecipare alle elezioni dei consigli partecipativi municipali che si tengono nelle 32 circoscrizioni della municipalità e ciò in difformità con quanto previsto dalle attuali leggi sulla immigrazione. E noi torneremo su questo tema anche con i rappresentanti dell'Inca in Brasile nelle prossime puntate. Voltiamo pagina dall'Europa aiuti ai disoccupati. Gli aiuti europei per chi ha perso il lavoro previsti per il periodo 2014-2020 saranno estesi a nuove categorie di lavoratori come gli autonomi e quelli con contratti a tempo determinato. È quanto prevede l'accordo approvato dalla plenaria del Parlamento europeo che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2014. Lo stanziamento finanziario sarà di 1,05 miliardi di euro. Con una nota, il Parlamento afferma di essersi adoperato affinché il campo di applicazione del Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione, FEAG, sia nuovamente prorogato per aiutare le persone disoccupate a causa della crisi. La soglia per l'attivazione dell'aiuto di 500 esuberi secondo il testo di compromesso l'aiuto del FEAG potrà essere erogato temporaneamente anche ai giovani che non rientrano nelle categorie di studenti, lavoratori o in formazione purché provengano da zone colpite da licenziamenti. Il sostegno del FEAG integra i contributi degli Stati membri per cofinanziare le misure che permettono ai lavoratori in esubero di rientrare nel mercato del lavoro ma non potranno in alcun caso sostituire i contributi nazionali previsti per la disoccupazione. Il contributo europeo potrà coprire fino al 60% del costo delle misure quali l'aiuto per la ricerca di occupazione, la formazione e il sostegno per la creazione di nuove imprese. L'accordo dovrà ora essere approvato dal Consiglio il 16 dicembre lunedì per permettere al programma di entrare in vigore il 1 gennaio 2014. Ultima notizia di oggi sempre da www.inca.it Legge di stabilità altre risorse per salvaguardare 20.000 esodati con un emendamento alla legge di stabilità altri 20.000 esodati potrebbero rientrare nella categoria dei salvaguardati aumentando così complessivamente il numero di coloro che possono andare in pensione con le regole anti-riforma Fornero a 150.000 persone. L'impegno è stato preso dal viceministro dell'economia Stefano Fassina l'emendamento in questione va a modificare alcuni criteri considerati troppo restrittivi che hanno impedito il pensionamento a molti lavoratori in età avanzata. In particolare l'emendamento allo studio interviene sui lavoratori autorizzati ai versamenti volontari coloro che hanno fatto un accordo con la propria azienda per dimettersi in attesa della pensione poi posticipata anche di sette anni che nell'ultimo anno hanno guadagnato oltre 7.500 euro. L'altro criterio che si intende modificare riguarda i lavoratori in mobilità in particolare si consente a coloro che potevano andare in pensione nel 2014 di fare domanda anche al termine del periodo di mobilità. Un altro tema sul quale c'è l'impegno del Partito Democratico riguarda la rivalutazione delle pensioni più basse l'emendamento anche questo allo studio prevede la possibilità di rivalutare le pensioni che vanno dai 1.500 ai 2.000 euro lordi mensili. Con questi due emendamenti abbiamo aperto una breccia afferma Cesare Damiano presidente della Commissione Lavoro allargare la salvaguardia degli esodati a coloro che erano stati esclusi e aumentare la rivalutazione delle pensioni più basse sono una battaglia che il PD sta portando avanti da settimane in Parlamento. Ora raccogliamo i primi frutti ma non festeggiamo prima di averli portati a casa. Queste le dichiarazioni di Cesare Damiano e con questa notizia si chiude alle servizi per approfondire www.inca.it Io ringrazio ancora Franco Bettoni presidente nazionale di Anmil l'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro ringrazio in regia Ivana Marrone e Mauro De Sanctis da Giorgio Sbordoni grazie a tutti per l'attenzione continuate a seguirci su www.radioarticolo1.it Grazie a tutti Grazie a tutti